TG1 anticipazioni, vi aspettiamo. Grazie a tutti. A proposito di Covid, i dati di oggi della pandemia aumentano le vittime, si arriva a 551, mai così tante dalla fine di gennaio, i nuovi contagi arrivano invece a quota 19.000. E poi un'altra notizia, Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina, ha scritto una lettera da Dio che sta facendo discutere, in questa lettera ha scritto non mi riconosco più in questo tipo di calcio. Questi altro, a tra poco, con il TG1 delle 20. L'avvento televisivo. Dubitate che io possa uccidere per la mia arte, eppure l'ho già fatto. Leonardo, questa sera a 21.25, Rai 1. Vedrai che la Slovenia ti piacerà. Quando è che scendi un po' nella civiltà? Fammi capire che sono due mesi che stai sulle montagne. Sono all'imbocco ovest della vecchia miniera. Ho appena trovato una donna conferita da arma da fuoco. Quella cruce di Emma la portava sempre al collo. Ma perché te ne vuoi andare da questo posto? Troppi ricordi. Ci avevi ragione, Francesco. Centro la miniera. Senti un po', ma visto che sei così bravo, invece di andartene in Slovenia con i lupi, no? Perché non rimani qua a darci una mano? In prima visione, un passo dal cielo, sei. Da giovedì, primo aprile, su Rai 1. È bello sentirsi protetti. Ecco perché noi abbiamo scelto Caraibi. La tenda da sole dalle linee semplici ed eleganti. Perfetta per concedersi un po' di relax al riparo dai raggi più forti. Caraibi è un prodotto MW Living. Per non fermarti mai, hai bisogno di energia. Per tutti quei momenti che ti regalano felicità. Ogni giorno, 19 vitamine e minerali di Meritene. Con in più, le proteine per rafforzare i muscoli. Non contare gli anni, falli contare. Con Meritene Forza e Vitalità. E per il tuo movimento, nuovo Meritene Mobilis Triplazione. L'integratore completo per muscoli, osse e articolazioni. Meritene Mobilis. Chiedilo al tuo farmacista. Dove la natura incontra la voglia di cose buone, nasce Puro Beretta. Gli affettati prodotti senza antibiotici dalla nascita. Per un sapore unico. Mmm, buono vero! Buono puro! Puro Beretta, bontà in ogni fetta. Quando design, tecnologia e sicurezza si incontrano, il risultato non può che essere Sportage. Gamma Sportage, disponibile anche con motorizzazione mild hybrid, è tua con avanzati sistemi di sicurezza e il massimo della connettività. KIA Sportage, sempre più Sportage. Gamma Sportage, tua con vantaggio fino a 6.000 euro di finanziamento e interessi zero. KIA, movement that inspires. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Giovanni Rana presenta Duetto Burrata e Basilico. La cremosa freschezza della burrata e il profumo deciso del basilico, insieme per un'esperienza sorprendente. Duetto, due colori, due sapori, piacere unico. Buon appetito! Possono 6 mm migliorare l'aria della tua casa? Con Windair, sì, il nuovo sistema invisibile di microventilazione di Ocloplast. Ora la finestra respira quando vuoi tu. Dai rivenditori Premium Partner Ocloplast. Io scelgo un nuovo Swiss Capelli Forti, una formula unica, ricca di nutrienti attivi, utili a mantenere la forza del capello. Perché quando i miei capelli sono forti e belli. Mi sento forti anch'io. Swiss, la mia nuova conquista di bellezza. Scopri anche la formula uomo. Papà! Albertina. Sempre più persone assomigliano a Einstein, perché hanno scoperto la spesa intelligente da Eurospin. Aggiungendo prodotti aumenta la convenienza. In pratica più compri, più risparmi. E i soldi che risparmi da Eurospin li puoi spendere per goderti la vita. E io ho scoperto questa offerta. Grana Padano DOP, pascoli italiani, a 7,89 euro al chilo. Per gli Einstein di tutti i giorni. Eurospin, la spesa intelligente. Buonasera ancora una volta. Salite che il treno riparte. Ciao! 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 Grazie a tutti